Buon martedì sera a tutti voi, si conclude la terza estrazione nel mese di giugno, 2-8 a tutte, guardate la ripetizione nei numeri, poi c'è di nuovo il 20 a Napoli, guardate un pochettino il 20 di Napoli, quante volte è uscito, guardate, 20, poi 20, e poi questa sera 20, la ripetizione nei numeri, ve l'ho sempre detto, guardate, 2-8, Roma, di nuovo su tutte, qualcuno si è fatto furbo, questa sera prende poco, ma ha diviso gli ambi su tutte, perché ha visto che comunque sia, la previsione può uscire su tutte, e allora qualcuno le ha giocate su tutte, vi stanno arrivando gli scontrini, ma questa è poca cosa, la previsione si porta avanti, questa si porta avanti ancora, perché il 90, come vi dicevo nel video precedente, dovrebbe proprio riaffacciarsi Milano, Napoli e Genova, sono le tre ruote di importanza, dove il 90 dovrebbe uscire, attenzione al 2-8 e 90, ma specialmente l'8 e 90 è l'ambo primario, dove dovrebbe essere atteso sulla ruota di Milano-Napoli, guardate un po', questa sera vi voglio far vedere una cosa, dunque, l'ho messo, allora, guardate questo ambo come si ripete per tre volte consecutivo, la ripetizione nei numeri, guardate un attimino, siamo al primo di giugno, 54,72 Firenze, 54,72 Sabato, 54,72 questa sera, praticamente giovedì, sabato e martedì questo, guardate cosa succede sulla ruota di Firenze, ripetizione continua degli stessi numeri, e allora, il 90 non sta ancora uscendo su Milano, il 90 non sta ancora uscendo su Napoli e nemmeno su Genova, guardate che prima o poi, quel 90 deve rimbalzare su queste tre ruote, ma non c'è ancora l'8, quindi, che dovrebbe arrivare, quindi in teoria, a Milano-Napoli, quindi, l'ambo basi, vi ripeto ancora una volta, è questo, poi, tutte nazionali, mi raccomando, io non l'ho specificato, però avete visto che continuano a sortire gli stessi numeri, e infatti stasera, di nuovo, guardate qui, 2,8, mentre invece è sabato, 2,8 e 90, guardate tutti gli 8, guardate l'8 di Genova, che scenda Milano-Napoli, vi do un'altra dimostrazione, vi ricordate quel 59 della previsione che vi ho dato, che è questa, questa si porta avanti ancora questa settimana, i numeri, ripetizione dei numeri, andiamo a rivedere di nuovo quello delle 59, guardate cosa vi ho fatto vedere, mi sembra, venerdì sera o sabato, no, domenica, adesso non mi ricordo bene, vabbè, comunque, allora, 59 di Bari, guardate qui, quindi, avevo detto Cagliari-Torino, in un colpo solo questa sera, Cagliari, non c'è, il 23, questo 59 di Roma, di nuovo Torino e Cagliari, vedete come i numeri si ripetono, pazzesco comunque il 54,75, 1 e 1,2 e 1,3, quindi, pazzesco, 54,74, e no, 54 e 72 per ben, eccolo qua, tre volte, 1, 2 e 3, allora, 59 quindi da Bari e Cagliari, questa previsione si porta avanti, 23,59, Bari e Cagliari, tutte nazionali, ancora questa settimana, poi vedremo, quindi, condizione, che vi ripeto, che si porta avanti, secondo colpo di gioco, giovedì sera, va bene, non devo aggiungere nient'altro, poi mi sembra che ho detto tutto, vediamo se dimentico qualcosa, vediamo se dimentico qualcosa, se non che, l'ambo secco di una signora, che adesso poi mi porterà la cedolina, quindi qua, diciamo, mi mando la foto su WhatsApp, guardate il 57 di Palermo, di nuovo, guardate che giri che fa, poi è concluso il video, come il 59 di Bari è sceso a Cagliari, vedrete che l'8 di Genova scende da Milano-Napoli, vedrete, guardate il 57 di Palermo, 55, 56, 57, Roma e Firenze, o 57, Roma, o 57, Firenze, che è la sua gemella, o 57, 75, Ambo e Ambetto, 1, 2, 3, questa sera cosa arriva su Firenze, cosa arriva su Firenze, cosa arriva su Firenze, Ambo secco, i due estratti con l'ambo secco, poi se andiamo nell'estrazione di Sabato, ancora una volta, guardate, guardate qui, 50, che qualcuno di voi me l'ha anche chiesto, questi due 57 dove vanno? Uno ritorna a Milano-Napoli e l'altro va a Palermo e Genova, e può arrivare anche come 75, guardate, più di così non si può, 57 che scende a Palermo e Genova, quindi 55, 56, 57, o 57 Palermo-Genova, o 75 Palermo-Genova, o 57, 75, Ambo e Ambetto, questa sera primo colpo, c'è sia il 57 su Genova, sia il 75 di Palermo, ma cosa volete di più? Quindi, attendiamo la previsione che avevo appena descritto, 2, 8,90, Ambo base, 8,90, Ambo e Ambetto, se volete, ripeto, farle su tutti come stanno arrivando di scontini adesso, perché l'hanno fatto anche su tutti questa giocata, è pochissimo, avete suddiviso 2,90, 8,90, 2,8, come la signora che mi sta mandando di scontrini, e tanti altri di voi, fatelo, quindi se volete fare su tutte, nazionale, fatelo, questa è un'unica previsione, assieme a quella del, vi ripeto, 23,59, che si porta avanti qualche colpo. Ci risentiamo alle prossime news, buona serata a tutti da Marcus, e se volete mandare i miei scontrini, sempre su WhatsApp, 351-758-8660, 351-758-8660. Buona serata a tutti, ci risentiamo alle prossime news, ciao! Ciao!